Parliamo di pallavolo maschile, si sono svolti questa mattina in Lussemburgo, presso la sede della Cevi, sorteggi dei gironi di Champions League 2020-2021. La Sire è stata inserita nella pool B insieme alle cucine Lube, Civitanova, al Tour e all'Arca Sitzmir. Gruppo certamente impegnativo per i block devils guidati da Vitalainen, che saranno dunque impegnati in un derby tutto italiano con i marchigiani di coach Fefe De Giorgi, avversari di tante battaglie negli ultimi anni, è certamente una delle formazioni favorite per la vittoria finale. Avversario che tra l'altro Perugia ha già incontrato in Champions nella semifinale di Roma 2017 e nella fase a gironi della stagione 2017-2018. Sono due vecchie conoscenze anche le altre due squadre della pool B. La Sire incontrerà infatti i francesi del Tour per la quarta volta. I turchi dell'Arca Sitzmir sono invece già stati avversari dei block devils nella stagione 2018-2019, sempre nella fase a gironi. E il via della fase a gironi al termine dei vari turni preliminari è previsto a metà novembre.